Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come vendere così le tue skin che tieni sul tuo profilo Steam ovviamente al posto di vendere le skin su Steam puoi venderle direttamente su siti esterni come Team Market ovviamente dicono se è una buona piattaforma, se è una piattaforma affidabile, si è una buona piattaforma dove puoi vendere le tue skin Skin di Counter Strike, skin di Dota, Team Fortress, Rust, quindi puoi anche ritirare così i tuoi soldi cliccando così sul tuo profilo qua, il clic qua sopra e qui c'è scritto ritira il servizio migliore è attraverso Paypal con un 2% di commissione dipende da quanti soldi vuoi ritirare dalla piattaforma Quindi in questo caso ti chiederanno anche l'url commerciale da inserire di market per cominciare a vendere, quindi dove trovare questo url commerciale? Vai direttamente sul tuo profilo Clicca su inventario, vai su offerte di scambio, clicca su chi può inviarmi delle offerte di scambio ed ecco siti di delse parti, url di scambio Inserisci qua sul profilo di market, sempre se te lo chiedi, per cominciare a comprare e vendere skin sulla piattaforma Il link lo trovi in descrizione che ti porterà su questa pagina Account Settings, il mio account Ho messo anche l'autenticazione a due fattori per essere ancora più sicuro, quindi ho migliorato la sicurezza al mio account Steam account e Steam guard, quindi è ancora meglio Devi tenere così il tuo inventario pubblico per poter scambiare e vendere skin Quindi come ho detto la piattaforma di market è veramente un'ottima piattaforma dove puoi comprare, vendere e ritirare così i soldi Quindi per farti anche vedere che ho messo in vendita alcune skin che avevo su Team Fortress Perché su Steam le skin di Team Fortress non le puoi vendere, alcune non le puoi vendere Però qua sopra veramente hanno un buon prezzo e le ho messe in vendita alcune skin Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video Il link sta in descrizione per crearti così un account dove puoi vendere così le tue skin Al posto di venderle su Steam dove tu poi non puoi ritirare i soldi su Steam Ora invece li puoi ritirare pagando 1 o 2% di commissione Quindi grazie a tutti per questa visione Grazie a tutti per il vostro tempo E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao